Quanto è stato determinante l'incontro tra l'Università ed FCA? È stata molto importante perché ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con una grande azienda che fa innovazione e ci ha dato l'opportunità di fare entrare in contatto i ragazzi, gli studenti che hanno preso parte a questo contest con una grande realtà aziendale. Quanto è stato determinante l'incontro tra FCA e i ragazzi dell'Università? Dunque FCA penso che abbia valutato come importante il contatto con i ragazzi da due punti di vista. Come fonti di idee innovative i millennials immaginano l'auto del domani e quindi per loro è un bacino conoscitivo importante ma anche come fonte di talenti, di profili interessanti tant'è che nell'arco dei tre anni FCA ha garantito 16 stage semestrali il che ha consentito poi di fare delle opportune selezioni di ragazzi che hanno avuto una grande opportunità. FCA FCA FCA